Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, questo non è un video come i soliti, è un video molto più serio, perché in questa settimana ho subito un grave incidente. Non so se siete al corrente, non so se qualcuno di voi ha seguito sui miei social o quello che postavo. Sono stati tre giorni ricoverati per un grave incidente, appunto. Inizialmente voglio spiegarvi di come mi sono sentito in questi giorni in ospedale, perché sono stati i giorni più brutti della mia vita, non lo dico per dire. Ho sofferto tantissimo di solitudine perché ero in una stanza con dieci persone e dieci anziani cui non riuscivano a parlare per le condizioni in cui erano ridotte. Nelle notti in cui stavo in ospedale ci sono stati i miei due conquilini, compagni di letto, possiamo dire che sono andati via, quindi ho visto due persone morire proprio nella notte. C'erano lamenti ogni notte, non si riusciva a dormire. Comunque, ragazzi, ho vent'anni, vedere la morte in due sere di due persone è stata veramente pesante. Oltre al fatto che non mi potevo muovere, perché dovevo essere sempre in continua osservazione, la sanità in Italia fa veramente, fa veramente schifo. Ho dormito due notti nel mio lettino pieno di sangue, con i vestiti pieni di sangue, perché non mi riuscivo a svegliare, non mi riuscivo ad alzare e non mi cambiavano nulla. Ho avuto pochissima assistenza. Tra l'ultimo giorno ho conosciuto un'infermiera, mi ha visto piangere, io non piangevo da due anni, era da due anni che non piangevo. Per colpa di questo incidente ho perso una grande opportunità lavorativa, mi sentivo veramente crollare il mondo addosso, perché ho lavorato tantissimo per questo. Mi sono sentito veramente, veramente abbattuto. Non depresso perché è un po' rollone, ero molto scoraggiato, ho pianto interrottamente per 30 minuti, infatti questa infermiera è venuta da me, è stata l'unica carina, gli altri erano molto molto maleducati, io so che ci vuole tantissima pazienza perché ho visto tutto anche l'ora del lavoro, ci vuole tantissima pazienza con gli anziani, ma molte persone lo fanno solo per salare, solo per averne il posto fisso e non perché gli piace. Comunque, in questi giorni di ospedale io ho continuato sempre a lavorare, a editare i video, a cercare di tenermi attivo sui social perché io non sono uno che molla, un ragazzo che gli succede qualcosa e si scoraggia, sì, mi prendo quei 5 minuti, quei 30 minuti in cui sono abbattuto, che sono veramente a terra, ma poi cerco sempre di rialzarmi. La cosa che ho sofferto di più è stata la solitudine, in pratica. Ero l'unico ragazzo, quindi non potevo parlare anche di cose mie a nessuno. In tutto ciò non riuscivo a dormire per dolore che avevo, un dolore veramente atroce. Comunque, ora vi spiego un attimo come è successo il tutto. Sì, abbiamo visto che mi sono venuto a prendere con l'ambulanza, Nelson mi ha salvato, infatti, grazie Nelson, è diventato il mio eroe, cioè mi ha salvato la vita, Nelson mi ha salvato la vita, ma sto scherzando. Com'è successo? Allora, era sabato mattina, noi ci siamo preparati per offrire un video, eravamo io e Nelson. Fatto sta che il sabato comunque tutti noi dormiamo, cioè noi siamo in Stardust Lab, siamo in 9, sabato si dorme, visto che ci alziamo ogni giorno verso le 7 e mezza, 8. Io mi sono dovuto alzare prima per fare questo video, ma eravamo solo io e Nelson. Per fare questo video dovevo avere un'inquadratura dall'alto, quindi dovevo un attimo arrampicarmi su un qualcosa per avere un'inquadratura dall'alto. Fatto sta che sono scivolato e mi si è infilato un ferro molto appuntito dentro il braccio. Ci troviamo fuori dove c'è stato l'atto del delitto. In qualche parola io dovevo riprendere Nelson da quella parte, ok? Quindi da qui dall'alto, con il grand'angolo doveva uscire una roba figa. Mi sono salito qua sopra, si è rotto questo mattone e mi si è infilzato tutto questo, che è proprio questo qua il terzo. Tutto questo nel braccio, mi è entrato come ho detto dal gomito ed è uscito dall'accella. E poi Nelson, io qua era a Penzoloni, cioè i miei piedi non toccavano terra. Nelson mi ha preso dalle gambe, mi ha sfilato e là è uscito un casino di sangue. Io non so come, quale miracolo, perché i dottori non se lo spiegano nemmeno, perché entrando da qua e uscendo da qui non mi ha toccato nemmeno un muscolo, nemmeno un nervo. Io potevo perdere il braccio, infatti il dottore prima di dimettermi mi ha detto ti è andata molto bene perché un centimetro più a destra mi toccava nervo e muscolo e me lo dovevo non potare. Comunque a me mi era colato il mondo addosso. Pensate di perdere un braccio così da un momento all'altro, quante cose cambiano nella vostra vita. Comunque mi si è infilzato nel braccio questo ferro, sono rimasto 10 secondi lì attaccato, ho chiamato subito Nelson, gridando proprio a squarciacola, potete immaginare. Il mio braccio era una specie di spiedino. Eravamo tutti e due scioccati, c'è comunque una cosa che vedi solo nei film. Ho preso un attimo il comando, gli ho detto stringimi il braccio e farmi uscire sangue e lui è rimasto 40 minuti a stringermi il braccio ed è stato veramente vaticoso per lui. Lui mi diceva tante volte sto per mollare, sto per mollare, ma ci facevamo coraggio vicendo. Qual è stato il problema più grande? È che non avevamo le chiavi dal cancello per aprire, perché noi abbiamo un cancello grande per far entrare l'ambulanza e dovevamo chiamare l'ambulanza a quel punto. A quel punto nessuno aveva le mani occupate. Io avevo solo questa mano libera e cercai di chiamare l'ambulanza, ma sfiga vuole che qui nella zona in cui siamo non c'è linea. Noi chiamiamo solo con le chiamate da whatsapp, qui non c'è linea. Quindi per chiamare l'ambulanza veramente ci sono, ci è voluto tanto tanto tempo perché ci chiudevano, pensavano fosse uno scherzo e io nel frattempo svenivo e mi riprendevo. È stato veramente brutto, io pensavo moio di sanguato, non è che può rimanere così tanto. Fatto sta che siamo riusciti a chiamarla, siamo riusciti a chiamare tutti quelli che stavano dormendo, perché noi ovviamente prima cosa ci siamo messi a chiamare tutti, ma tutti dormivano, cioè erano alle 8 del mattino di sabato, tutti dormivano. Alla fine Stefani, non so se la conoscete, ci è venuta ad aprire finalmente, aveva le chiavi del cancello, aperto proprio nel momento esatto in cui era arrivata l'ambulanza e mi hanno caricato. Caricandomi mi hanno messo un tanto di quei farmaci che non ci ho capito nulla, infatti non registravo perché volevo capire in che situazione fossi. Arrivata all'ospedale, una cosa veramente scioccante ragazzi, veramente scioccante, è arrivato che io avevo il braccio frantumato, io non so se poi posso mettere, la foto non la posso mettere, guardate il braccio, vabbè. Comunque, arrivato in ospedale, il primo infermiere che mi ha visto mi ha chiesto una foto, cioè mi ha chiesto una foto, era in condizioni che stavo per morire, cioè ha dissanguato, mi ha chiesto una foto e mi ha parlato di pubblicizzare il suo e-commerce. Io non mi ricordo nemmeno che cosa gli ho risposto, sinceramente perché ero strafatto di farmaci. Comunque, siamo arrivati al punto che mi dovevano mettere i punti, visto che questo ospedale era un ospedale universitario, mi hanno preso da cavia. Le parole, i punti sono stati messi da una persona che non li aveva mai messi, infatti c'era il dottore che gli spiegava come farlo. Io ho sentito tutto perché si sono dimenticati di mettermi l'anestesia, un dolore, vi giuro, non ve lo augurerei mai, ma mai, mai, mai. La prima flebbo hanno sbagliato un buco dell'avena, mi hanno preso l'avena e mi è arrivato tutto il liquido dell'avena dentro il braccio, quindi ho avuto il braccio per due giorni così, enorme, proprio gonfio, gonfio, gonfio. Comunque, a fin dei conti, nella sfortuna, ho avuto molto fortuna, infatti il braccio lo riesco a muovere, mi fa tanto male, mentre dormo ancora sto prendendo antibiotici, antidolorifici, medico le ferite delle volte al giorno. So sicuramente che ci stanno persone che hanno subito e hanno avuto cose molto peggiori di me, non voglio mai peragonarmi al loro dolore o alle loro cose, ma volevo solo raccontarvi e rendervi partecipi di quello che ho passato. Quindi ragazzi vi mando un bacione, mi raccomando lasciate like e iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video, spero il più divertente. Un bacio!